Finalmente l'Italia sta crescendo a tassi che sono comparabili con il resto dell'Europa e in taluni casi, in taluni settori anche superiori. Non dimentichiamo che gli ultimi dati sono produzione industriale a luglio più 4,4% rispetto a un anno prima, esportazioni più 8%. Quindi questi sono dati di assoluto rilievo, sono i migliori degli ultimi sei anni ma sono anche molto rilevanti in Europa e sono i primi effetti dei cambiamenti strutturali, cioè delle riforme che sono state fatte negli ultimi anni.